ue ragazzi buonasera allora bene finita appena finite le partite di champions io ho visto diretta gol non ho visto la partita dell'inter perché ero pensavo che vincesse onestamente credevo che lo sheriff impegnasse di più ma non per la sua forza in sé per l'entusiasmo evidentemente questo entusiasmo che avevano si è spento dopo la sconfitta di milano l'inter ha vinto largamente molto più 3 a 1 molto più meno largamente di quanto avrebbe meritato onestamente bisogna essere oggettivi l'inter merita di andare avanti e vi dirò di più non è neanche detta l'ultima per il primo posto nel girone perché se il real madrid è quello che abbiamo visto l'andata l'inter può giocarsela benissimo il bernabeu ma ora sono a 9 real a 7 l'inter e a 6 di sheriffi ma mi sa solo due punti no un punto lo shaktar che poi è quello che ha fatto con l'inter tanta pubblicità questo del zerbi e poi e poi nulla l'inter merita di andare avanti oggettivamente per me merita anche di giocarsi il primo posto con real va bene non passare questo girone sarebbe stato uno scandalo ma lo sta passando non solo per l'effettiva debolezza degli avversari quanto anche anche per meriti suoi l'inter è una squadra che secondo me nel doppio confronto può rompere i coglioni a parecchie delle cosiddette favorite io oggi per esempio ho visto per l'ennesima volta il pari saint germain non mi ha fatto nessuna buona impressione niente il lipsi ha pareggiato meritatamente sull'uno a zero ha sbagliato anche un calcio di rigore poi wine album ha fatto due reti è una cozzaglia di figurine è una cozzaglia di figurine questo pari saint germain non mi ha impressionato per nulla naturalmente l'inter potrà trovare quelle che per me quelle che deve evitare una su tutte il bayern monaco una su tutte sia l'inter sia la juventus qualora dovesse arrivare la seconda nel girone una su tutte il bayern monaco poi l'altra e liverpool col city l'inter secondo me ce la può fare col city l'inter per me ce la può fare poi naturalmente bisogna vedere anche che arriverà prima che arriverà secondo nei gironi ieri abbiamo visto il salisburgo per esempio che sarà secondo me per le seconde sarà la preda ambita il salisburgo per gli ottavi di finale sarà la preda più ambita di tutti perché penso che riuscirà fino alla fine ad arrivare primo nel girone e vi dirò di più sta meritando sta meritando poi in merito alle partite di stasera vabbè il solito manchester city che ha fatto carne da porco del bruce ma era era ma io lo dissi anche quando ho perso a parigi il manchester city e manchester city arriva primo nel girone perché il pari saint germain è da partita singola è da partita singola ma nel lungo andare prima o poi si perde non la vincerà mai la champions per me pari saint germain non è affar suo due sono le grandi favorite il bayern anzi tre il bayern prima di tutti poi liverpool e manchester city no liverpool poi in ordine sparso manchester city celsi però diciamo che le due italiane ah dimenticavo il manchester united che resta sempre la mia favorita per la vittoria della champions resta sempre che non vince sempre la più forte io parlo di squadre da evitare eviterei come la peste il bayern di monaco eviterei come la peste dicevo le italiane soprattutto l'inter per me bayern monaco a parte se la può giocare con chiunque forse il liverpool può essere fastidioso però secondo me l'inter ha la possibilità di metterli in crisi l'inter può arrivare molto avanti in coppa dipenderà molto dal sorteggio chiaramente certo ribadisco se becca subito il bayern di monaco ed è finita perché sono troppo forti quelli da sono troppo forti ma con gli altri se la può giocare naturalmente stesso discorso ci mancherebbe altro vale anche per la juventus si profila un urla un urna delle prime qualificate con bayern liverpool manchester city real madrid al momento real madrid al momento al momento ajax salisburgo e poi oh non ricordo gironi c'è il bayern il liverpool il city al momento la juventus il real madrid il madrid il salisburgo l'ajax l'ottava non la ricordo qual è sapete l'ottava non la ricordo ah è quella del girone dell'atalanta che dovrebbe essere il manchester united dopo il pareggio di ieri boh parliamo ora di milan il milan è praticamente fuori il milan per me è praticamente fuori perché sì vabbè la prossima mi sa che gioca con liverpool che è già qualificato potrebbe anche fare questi tre punti ma poi l'ultima va in casa dell'atletico madrid uno l'ultima va in casa dell'atletico madrid due 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 bisogna vedere cosa faranno porto e atletico madrid perché se dovesse vincere il porto il milan è aritmeticamente fuori già la prossima partita se dovesse vincere il porto e il porto sarebbe matematicamente qualificato che bella cosa che bella cosa lo so è chiaro che non è più il milan di una volta anche se sta facendo benissimo il campionato ma che speranze abbiamo secondo me diciamo che l'inter può arrivare fino alla semifinale benché gli vada l'inter può arrivare fino alla semifinale la juve per me ben che gli vada massimo quarti di finale massimo quarti di finale poi c'è l'Atalanta 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 ha perso una grossa occasione ieri con quel furto all'ultimo l'ultimo minuto vabbè sapete che c'è col Villareal sarà dura sarà dura poi l'ultima va in casa degli svizzeri oddio può ancora farcela dipende molto dalla partita col Villareal dipende tanto dalla partita col Villareal che al momento è l'unica che con gli svizzeri ha fatto sei punti ha pareggiato con l'Atalanta deve ospitare il Manchester United e quella sarà una bella partita mi sarà la prossima no 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 è l'ultima Villareal Manchester certo che non sta messa molto bene l'Atalanta perché ora c'è il Manchester che ha sette punti il Manchester ha sette punti il Villareal ha sette punti l'Atalanta invece ha cinque punti cinque punti e signori dovrà per forza battere Villareal non è messa molto bene l'Atalanta non è messa molto bene questa Atalanta dovrà per forza battere Villareal boh e lo so amici miei quest'anno ecco se ci sono squadre superiori alle italiane inutile negarlo non lo so ora ci rituffiamo nel campionato e poi c'è la sosta per le nazionali e poi inizia il rush finale fino a fine anno iscriviti al canale ok ok ecco 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 ecco